cari amici di Vox Italia TV benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi abbiamo Danilo Pagliaro Danilo Pagliaro che è un brigadiere capo in forza alla legione straniera ciao Danilo buongiorno ciao ecco ognuno di noi magari ha un'immagine di cos'è la legione straniera insomma si viene spesso evocato questo mondo però nessuno in realtà sa per davvero di cosa si tratta e come funzioni cos'è la legione straniera puoi spiegarlo a chi ci ascolta Danilo certo la legione straniera è un corpo che fa parte delle forze armate francesi è un non siamo forze speciali tanta gente pensa che immagina fantastica sulla regione straniera che fa cose strane che sono i migliori che sono chissà cosa in realtà ripeto facciamo parte delle forze armate francesi siamo un corpo d'élite e la grande differenza la grande prerogativa che appunto differenzia la regione straniera dalle forze armate francesi che noi chiamiamo le forze regolari è che ci si può arruolare anche non avendo la nazionalità francese quindi gli stranieri si possono arruolare purché abbiano un'età compresa fra i 18 e i 40 anni non compiuti ecco cos'è la legione straniera Danilo solo la Francia ha questa legione straniera o anche altri paesi hanno al loro interno questo tipo di struttura? No allora è un discorso un po' complicato la legione straniera c'è anche in Spagna sapendo che non ha non ha più quanto meno le stesse prerogative della legione straniera francese perché una volta arruolava fino alla seconda metà degli anni del novecento arruolava gli stranieri dopo verso la fine del novecento quindi è storia veramente recentissima avevano chiuso l'arruolamento a appunto agli stranieri dopodiché pochi anni fa lo hanno riaperto ma gli stranieri che si presentano devono essere necessariamente di madrelingua spagnola ci sono gli americani che 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 arruolano nelle loro forze armate sotto determinate condizioni anche stranieri diciamo che la legione straniera tale insomma quella più famosa e quella francese quella storia è quella che effettivamente dà la possibilità a chiunque di arruolarsi senti tu perché hai deciso e quando hai deciso di arruolarti nella legione straniera io mi sono arruolato nel 1994 e perché mi sono arruolato di sicuro non per tutta la la poesia che c'è riguardo la regione straniera la persona che scappa che fugge che cerca un rifugio che 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 ha fatto qualcosa che scappa da un amore o dai credi dei debiti o o dalla regge io semplicemente per vari motivi ero arrivato in francia dove avevo cominciato a lavorare in maniera saltuaria e volevo effettivamente avevo una moglie due figli e avrei voluto un posto di lavoro sicuro mi è sempre piaciuto il lavoro il campo militare il settore militare in italia avevo provato ad arruolarmi anche in polizia dove sono stato scartato alle visite mediche ero andato a roma e alla prima visita mi hanno scartato per vene varicose avevo 22 anni ma quel medico mi ha trovato le vene varicose detto questo cercavo mi è sempre piaciuto essere in un certo tipo di ambiente militare forze dell'ordine forze forze armate e quindi ho scoperto che effettivamente esisteva realmente questa regione straniera che arruolava fino ai 40 anni e ci ho provato è andata bene a chi risponde la legione straniera al ministero della difesa francese ma certo io ho un tesserino del ministero della difesa francese noi è tutto il grande discorso del mercenariato che tanta gente ma o o o per ignoranza o in assoluta malafede vuole definirci in un certo modo no no e ancora no noi abbiamo un tesserino rilasciato dal ministero della difesa abbiamo una busta paga abbiamo la pensione abbiamo l'assistenza sanitaria l'assistenza sociale a tutti gli effetti siamo soldati francesi inquadrati nelle forze armate francesi quindi come qualsiasi soldato rispondiamo qui in francia rispondiamo agli ordini del del capo dello stato che è il capo delle forze armate hai partecipato in questi lunghi decenni a qualche missione in particolare danilo in legione straniera si partecipa ogni anno alle missioni voglio dire noi per definizione ogni anno partiamo quattro cinque mesi in teatri operativi da da qualche anno quando c'è stata tutta quella quella strage a Charlie Hebdo e dopo la strage di Nizza e dopo il Bataclan il servizio diventa particolarmente importante impegnativo perché le missioni all'estero in zona di guerra vengono sempre mantenute ma a queste si aggiungono le missioni di controllo del territorio per la sicurezza del territorio nazionale il che fa che effettivamente siamo particolarmente sollecitati è tutta la grande differenza che io do con le forze armate anche quando parlo con gli italiani molte volte dicono sì anche noi no ma non stiamo facendo la gara a chi è più bravo o meno bravo è che proprio come mentalità come come modo di vivere come modo di 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 concepire determinate cose non non funzionerebbe in italia come non funziona in francia attenzione con le forze armate regolari per capirsi noi l'altro anno uno dei nostri squadroni che ha che è stato impiegato mediamente quindi non è stato quello che ha fatto più cose non è stato quello che ne ha fatte di meno è stato è stato per 302 giorni nell'anno in zona di guerra o in zona o in missione di controllo del territorio quindi vuol dire veramente stare dieci mesi l'anno impegnati gli altri due mesi non è che si possa andare in licenza perché noi avremo due mesi di licenza l'anno ma è quella è tutta teoria perché dopo parti torni bisogna pur sistemare il materiale ricondizionare le cose bisogna pur stare nel nel nella quartieramento nella caserma ci sono dei servizi da fare ci sono dei lavori da fare quindi effettivamente si ferma mai dici in realtà non si fa mai in vacanza in questo mestiere senti il vostro gruppo ha dei collegamenti con i servizi di sicurezza francesi con il dipartimento dei servizi segreti interni o esteri dei servizi segreti sono totalmente un'altra cosa evidentemente ci sono i servizi segreti militari ma dello stato non sono della legione straniera e può darsi che qualche che a te ti hanno mai chiesto se vuoi lavorare per i servizi esteri francesi se anche sì non me lo diresti vabbè capito la risposta senti danilo tu sei stato mai in qualche zona operativa di guerra ultimamente in qualche zona operativa scusa cioè sei stato operativo in qualche zona dove teatro di guerra ultimamente nell'ultimo anno io nell'ultimo anno no non nell'ultimo anno prima 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 ho fatto dal tanto dalla repubblica centroafricana durante le grosse sommosse di banghi e la capitale al camerun con la guerra di bacassi l'ex jugoslavia sono stato in egitto sono stato nel sahara occidentale ho fatto due anni e mezzo a gibuti due anni nel canale del mozambico insomma ne hai visti scenari qual è stato fra questi quello più pericoloso danilo hai mai avuto paura che succedesse qualcosa di irreparabile ma in legione straniera le cose le facciamo semplici e diamo un nome ad ogni cosa quindi le cose irreparabili non esistono semplicemente si può morire o si può hai mai rischiato di morire in questi scenari ma sì come come tutti quelli che vanno in certi scenari in zona di guerra vivi con la costante che potrebbe fermarsi tutto un secondo dopo soprattutto in certe situazioni zona di guerra ne ho vissute zona di guerra anche particolarmente violente è capitato di essere al centro di un conflitto a fuoco durante questo tuolo me sì ma ma no uno cioè tu mi stai dicendo guarda che per me quello che tu immagini come strano è come per un calciatore tirare un rigore cioè io faccio questo ma il lavoro del soldato adesso al di là bisogna fare un attimino la chiarezza su questa cosa perché ci sono quei quattro esaltati buffoni per la più parte non sono mai stati militari o hanno fatto il servizio di leva niente di più oppure ci sono quelli che realmente sono totalmente esaltati che parlano dicono fanno i grandi proclami e non va bene detto questo il mestiere del soldato ma ripeto prendetelo con in maniera letterale è quello di fare la guerra il che non vuol dire che bisogna fare la guerra il che non vuol dire che bisogna cercare la guerra il che non vuol dire che la guerra è bella perché soltanto un povero deficiente malato mentale direbbe una cosa del genere evidentemente però è il nostro lavoro per cui in guerra si può anche morire qualcuno che va regolarmente in zona di guerra probabilmente ha un rapporto diverso con quello che è la morte che sia il darla o che sia il riceverla il che non vuol dire che non si ha paura accidenti se si ha paura però subentra anche una certa dose di fatalismo è così nessuno mi ha chiesto di fare questo lavoro sono volontario io vengo pagato per questo molto poco perché in Francia nelle forze armate non diventi ricco o quantomeno in Francia in Italia non lo so ma noi anche in zona di guerra prendiamo 3000 euro al mese non è che dipende dal grado parlo io nella mia anzianità nel mio grado un brigadier chef un appuntato un caporal maggiore al massimo della sua scaletta stipendiale al massimo di tutti i vantaggi che può avere in zona di guerra prende sui 3100 euro al mese con tutte le indennità i premi le cose che possono essere pagate di più per cui scegliamo liberamente di fare questo lavoro e quindi dopo e accertiamo i rischi ti sei mai chiesto in uno di questi scenari di guerra qui hanno ragione gli avversari e noi siamo dalla parte del torto ti è mai capitato di dare un giudizio morale su chi avesse ragione intorno al conflitto che stavi vivendo no sì nel senso io ho avuto tra virgolette non so come altro dirlo la fortuna di avere delle situazioni sempre molto ben chiare davanti a me cioè voglio dire quando hai delle persone che hanno preso in ostaggio dei bambini in un orfanotrofio personalmente non mi interessa se le persone che sono dentro sono di sinistra e sono rivoluzionari sono di destra e sono dei terroristi ma proprio non può fregarmene di meno noi sappiamo che di fronte a noi ci sono una ventina di una ventina di persone ci sono un certo numero di terroristi che hanno preso alcune decine di bambini tra gli zero e i cinque anni in ostaggio e che minacciano di farli a pezzettini uno alla volta a colpi di macette non ti poni lontanamente il problema chi ha torto chi ha ragione in Repubblica Centroafricana le cose erano semplici il governo democraticamente eletto della Repubblica Centroafricana ha chiesto l'aiuto alla Francia perché c'era un colpo di Stato in atto cioè non è che ci si sta non è che andiamo a partecipare noi a un colpo di Stato queste sono tutte le cose che si vedono nei film la regione straniera a proposito di questo si concludi che poi ti voglio chiedere una cosa su questo prego concludi e dicevo la regione straniera nella realtà delle cose fa parte delle forze armate francesi e quindi la Francia per carità dopo ci sono i servizi segreti i servizi segreti deviati i buoni i bravi i cattivi come dovunque per carità di Dio ma è logico che è più complicato il discorso non si può finire in un'intervista di dieci minuti però alla base le forze armate francese le forze armate di uno Stato europeo vanno quando sono inviate dal governo stesso e vanno a operare in delle situazioni che voglio dire moralmente eticamente non è che ci siano troppi problemi da porsi per il soldato oltretutto voi a casa dietro la televisione o sul divano potete porvi il problema se a livello politico era giusto o non era giusto e sono totalmente d'accordo per carità di Dio ci mancherebbe anche quella ma è sempre a livello politico che si possono fare tante disquisizioni tanti pensieri tante congetture la realtà del soldato è molto più semplice sei in zona di guerra hai di fronte uno che ha un fucile anche lui e che potrebbe spararti si fa presto a capire da che parte si deve stare senti Danilo ti è mai capitato di essere in uno scenario di guerra e poi di leggere le cose che scrivevano i giornali su quello scenario che tu vivevi e notare che era completamente un'altra cosa cioè hai mai notato una differenza fra quello che tu conoscevi direttamente perché lo vivevi e come veniva invece raccontato dai giornalisti come se avessi l'impressione che raccontassero un'altra storia completamente diversa da quello che tu vivevi in prima persona allora premetto che non ce l'ho con nessuno mi fai la domanda e io do una risposta che la cosa fosse totalmente inventata no non mi è mai successo personalmente viceversa che ci fosse un'assoluta mala fede ma veramente da far ribollire il sangue su determinate cose questo sì e questo lo posso capire perché il giornalista è un uomo che è per forza di cose ha le sue idee politiche il suo credo religioso le sue tendenze sessuali le sue opinioni è normale che sia così il suo editore che lo paga ti sei dimenticato in effetti torno a ripetere non sto facendo una persona a me non piace entrare in contrasto con la gente ripeto io la guerra la faccio per mestiere e di sicuro non con i giornalisti detto questo per tanti motivi molte volte molte 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 volte la maggior parte delle volte ho trovato dei giornalisti ho trovato la stampa che altera la visione delle cose oppure la politicizza in maniera assolutamente stupida oltretutto e questo sì questo è un qualcosa che ho notato regolarmente Danilo il tuo essere italiano ti ha mai portato problemi nella legione straniera francese cioè sei stato mai come dire discriminato per il tuo essere italiano oppure hai mai notato meno fiducia nei tuoi confronti per il tuo essere italiano allora io mi sono arruolato 25 anni fa 26 anni fa no 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 oggi come oggi la situazione degli italiani per colpa degli italiani evidentemente è totalmente cambiata premetto quando dico gli italiani non parlo di te o dei 60 milioni di italiani che sono in Italia non è quella l'immagine che sia purtroppo un legione straniera parlo di tutte quelle centinaia di buffoni semplicemente buffoni che vengono per arruolarsi e che poi i buffoni sono il prodotto della nostra società però è vero che la stragrande maggioranza una percentuale enorme di italiani vengono e cioè loro vogliono vogliono le licenze vogliono il telefonino parlano dei loro diritti molte volte dicono ma ho sentito dire ma io sono un cittadino italiano e ho una certa cultura e voglio e vuoi quindi beh chi torna in Italia e vuoi quello che vuoi qui non funziona così c'è un tasso di diserzione che è incredibile ne parlo nei libri che ho scritto anche là non è qualcuno mi ha detto che come si richiama uno dei tuoi libri così lo diciamo a chi ci ascolta per chi vuole capire di più i miei libri uno oltretutto ho scoperto ieri me lo avete detto voi italiani che in una trasmissione fatta su Rai 3 che parlava della regione straniera un un grosso un conosciuto professore di storia italiano ha consigliato il mio libro per chi vuole vici il titolo che chiedo alla regia di cercarlo in rete e di farlo vedere come si chiama questo tuo libro più famoso è mai avere paura vita di un legionario mai avere paura mai avere paura di Danilo Paglia vediamo se la regia riesce a trovarlo in diretta così lo facciamo vedere e proponiamo a chi ci ascolta da lettura senti Danilo qual è la situazione adesso in Francia dal punto di vista della tenuta dell'ordine pubblico sono stati mesi difficili con i gilet gialli la polizia è stata accusata di avere usato il pugno duro contro gente che manifestava legittimamente adesso qual è la situazione lì? i gilet gialli si sono calmati e la situazione è tesa per altri motivi perché c'è il terrorismo la situazione è tesa in Europa non è tesa solo in Francia c'è il covid ci sono tante cose anche là vedi è proprio la posizione falsa totalmente falsa che non la stampa ma una certa stampa su carta televisione da di quello che è successo con i gilet gialli perché che la gente manifestasse è vero e va bene oltretutto cioè siamo in uno stato di diritto in uno stato democratico e di sicuro il popolo ha il sacrosanto diritto di manifestare di dimostrare di fare tutto il casino che vuole nel momento stesso in cui ci sono delle persone e siamo i primi a riconoscere che non sono i gilet gialli i gilet gialli erano padri di famiglia ma siamo noi stessi è il popolo solo che dietro al popolo arrivavano orde ma veramente orde di delinquenti perché il politicamente corretto non può farmene di meno quella gente è sono dei delinquenti dei criminali che devono essere fermati bene o male chiuso perché nel momento stesso in cui con la buona scusa dei gilet gialli che reclamano i loro sacrosanti diritti cominciano a sfondare vetrine saccheggiare rubare incendiare macchine incendiare case palazzi spaccare tutto bisogna fermarli ma secondo te un po' di questa gente li infiltrano i servizi di sicurezza noi abbiamo visto in Italia Genova cosa è stato con quei due agenti che portavano prove fit insomma così come vediamo che tanti terroristi islamici vengono prima selezionati insomma hanno rapporti con l'intelligence poi muoiono quasi tutti stranamente nei conflitti a fuoco non riescono a prenderne mai uno vivo diciamo che ci può essere anche qualcuno che ha voglia di fomentare gli opposti o no Danilo non si può escludere ecco mettiamolo non pretendo che tu ma niente si può benedetto uomo niente si può escludere però stare sempre sulle tesi del complotto stare sempre no 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 del complotto cioè Genova 2001 sono stati dei processi gente condannata per avere portato non è che il complotto è un pezzo di storia non lo so può essere tutto può essere voglio dire sono venute giuste cioè tu escluderesti che tante volte alcune manifestazioni sane vengono infiltrate per finalità diverse cioè per giustificare una reazione non ho sentito niente Danilo ti chiedevo questo tu escludi che in passato o anche diciamo adesso alcuni abbiano intenzione o desiderio di infiltrare manifestazioni pacifiche per finalità diverse cioè per legittimare una reazione violenta non ne ho la minima idea né in un senso né nell'altro però non lo escludi ma non lo confermi ma come si può confermi sono cose veramente molto molto delicate penso che prima soltanto prima di poter dare delle ipotesi del genere bisognerebbe veramente avere delle grosse sicurezze anche perché in qualche modo dicendo delle cose del genere si può far passare il messaggio che tutto sommato se non ci fosse non so che agenti disturbatori le cose andrebbero bene invece ammesso che fosse vero ammesso che sia stato vero che ci siano stati delle persone infiltrate per far creare casino ripeto ammesso sia una cosa vera in ogni caso determinati problemi ci sarebbero stati lo stesso cioè non si può dire i problemi della gente che spacca tutto esiste perché sono stati infiltrati i problemi ci sarebbero in ogni caso i problemi sono molto diversi molte volte da quello che si vuol far apparire e tante volte bisognerebbe semplicemente capire che effettivamente c'è il bene e c'è il male bisognerebbe scendere a cose molto più semplici vengo sui gile gialli e quindi bisognerebbe capire che quando hai di fronte una massa di persone col gile giallo che reclamano meno tasse la possibilità di vivere in maniera decente la possibilità di vivere in maniera più decorosa e per molte persone oggi come oggi reclamano semplicemente la possibilità di vivere davanti a queste persone che meritano tutto il rispetto la considerazione e tutti i diritti di poter manifestare questi principi dall'altra parte ci sono delle persone che per tutti i motivi che vogliamo ma non stiamo facendo un'intervista di stampo sociologico etnico antropologico per tutti i motivi magari saranno anche i più validi del mondo ma alla fine il risultato è che spaccano rompono incendiano rubano feriscono uccidono e devono essere fermati facciamo vedere il libro di Danilo che intanto la regia l'ha trovato eccolo qui mai avere paura è questo Danilo giusto? perfetto quindi questo è il libro di Danilo che consigliamo a tutti voi per capire di più di un mondo che quasi mai viene trattato sui media mainstream e quando viene fatto viene fatto spesso in termini molto superficiali senti Danilo ti lascio con un'ultima domanda questa pandemia questa crisi può generare conflitti sociali anche in Francia o lì la situazione è tranquilla perché in Italia cominciano a protestare in tanti che non ce la fanno più piccoli esercenti non vogliono più stare alle regole dei DPCM in Francia com'è la situazione? in Francia la situazione è esattamente come in Italia ero in Italia fino a una decina fino a un paio di settimane fa oltretutto in Francia è la stessa cosa ma davanti al problema Covid c'è la stessa cosa c'è gente che si ammala c'è gente che muore così come in Italia un po' di meno credo ma semplicemente perché qua la pandemia è arrivata una quindicina di giorni dopo rispetto a quando è cominciata in Italia già nel mese di marzo per cui ci sono un po' meno morti ma voglio dire i problemi sono quelli il modo di contrastarla questa pandemia di contrastare questo virus è lo stesso in Francia per cui bisogna confinare la gente in maniera più o meno pesante adesso erano confinate solo alcune regioni fino alle 18 da ieri mi sembra o da oggi da ieri mi sembra tutta la Francia è confinata fino alle 18 a partire dalle ore 18 ci sono i vaccini che sono arrivati ma la metà della popolazione dice che non sa che non crede che non pensa così come in Italia ci sono decine centinaia migliaia di persone che sono esercenti artigiani commercianti di gente che rischia veramente di mettere la chiave sotto la porta di dover chiudere anche se effettivamente questo è il motivo per cui oltretutto io dico sempre resterò in Francia l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale che esiste in Francia in Italia ce la sogniamo detto questo dopo un anno praticamente che ci sono problemi di questo genere anche in Francia effettivamente la gente comincia ad avere problemi problemi enormi e questo per forza di cose sfocerà in conflitti sociali è un'evidenza è una certezza bene grazie Danilo è stato un piacere averti con noi grazie a voi cari amici di Vox Italia TV si conclude qui un nostro nuovo approfondimento come sapete noi non ci accontentiamo di affrontare i temi che affrontano gli altri vogliamo spaziare vogliamo darvi dei punti delle soluzioni insomma dei punti di vista che riguardano diverse diverse questioni anche quelle che il mainstream in genere non tocca questo è il compito di Vox Italia TV fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra potete aiutarci tramite bonifico tramite Paypal perché come sapete noi siamo liberi nella misura in cui non abbiamo editori che possono dirci cosa possiamo dobbiamo dire o come possiamo dirlo la nostra libertà potete garantirla soltanto voi e noi resteremo qui a servirvi fino a quando voi così deciderete grazie alla prossima grazie a tutti Grazie.